Ehi la, ciao sognatore, ciao sognatrice, come va? Spero benissimo, benvenuto e benvenuta nel mio canale, io sono Elle e oggi sono qui per rilassarti, ovviamente, come sempre. Oggi, 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 è l'ora della nanna, è l'ora di dormire, quindi ti aiuterò, ti aiuterò a rilassarti, a dormire bene. Oggi è per te i vari suoni, un video in italiano di suoni, che bello. Da tanto che non faccio un video di suoni in italiano, quindi eccomi qui. Oggi è per te i vari suoni per l'appunto, quindi ti consiglio di indossare le cuffie o gli auricolari per ascoltare meglio l'audio di questo video, perché è binaurale. Oggi sono qui con questo meraviglioso microfono 3D, il microfono con le orecci, che adoro tremendamente. Spero anche tu, e quindi, 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 iniziamo subito. Ordonque, ho vari triggers, come ho detto, e iniziamo da un suono, da un trigger che non utilizzo da apparecchio qui nel canale. 3D, il microfono. 3D, il microfono. Il microfono mi è sempre piaciuto perché ha un suono particolare proprio. Ti consiglio di chiudere gli occhi per ascoltare meglio i suoni A meno che non ci sia in un video un rilassamento visivo, allora io non ho gli occhi e li devo tenere aperti Sì 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 per chi si stesse chiedendo che fine ha fatto la mia francia perché qualcuno me l'aveva detto nei commenti per messaggio, mi ricordo comunque, raga la questione è questa è cresciuta subito non lo so subito e non è più una francia la devo ritagliare non lo so 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti a dormire a dormire tu te a dormire 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 a dormire